Oh, questa video intervista è senza le domande dell'intervistatore. Vogliamo solo delle risposte. Che non devono essere il silenzio, quindi dite quello che... Non hai ancora fatto una domanda. Ti ho detto, è la video intervista senza domande. Simonetta, mio personaggio. Ma perché non mi dici un po' chi è Simonetta? Ma Simonetta è... Monica? Un personaggio bellissimo. Simonetta, ti devo dire che te l'avrei scippato volentieri. L'avresti voluto fare, lo so. Sì, perché è piena di sfumature interessanti, è una donna così disorientata, ma così tenera e vorresti abbracciarla forte forte e dirle, Simonetta, è tutto a posto, parliamo. Che poi lei non è tanto consapevole di tutta la situazione. No, è per quello che bisogna tirarle fuori delle cose a questa Simonetta. Mi fa tanta simpatia perché sbaglia dappertutto, però è così buona. Sì, però se l'avessi avuta come madre e c'era una retta da pagare e tu trovavi anche i soldi impegnandoti e poi questa sciamannata tanto simpatica ti saresti incazzata comunque con una madre del genere. Come figlia mi sarei incazzata, probabilmente sì. Probabilmente mi sarei incazzata, sì. Sì, però io ho visto che sono anche genitore, non riesco a puntare il dito con un prossimo genitore. C'è qualcosa poi dal punto di vista sessuale che vi accomuna nella serie dal punto di vista... Beh, avete passione per uomini più giovani, diciamo. Io sono sposato a un diplomatico, come ti permetti. No, questa video intervista è anche, diciamo, piena di rivelazioni. No, sono due personaggi che, allora, sono due personaggi bellissimi, divertentissimi. È vero che sono le mamme o le matrigne più pazzerelle e più deviate anche. Raccontatemi, visto che si parla molto di sessualità in Baby, raccontatemi la sessualità dei vostri personaggi. Già il mio, che è sempre in cerca di un nuovo amore, la vediamo con un ragazzo così tanto più giovane, un po'... Questa è una cosa che a me non mi corrisponde per niente, quindi non so nemmeno come... Mio marito ha nove anni meno di me, Isabella, quindi... Ah beh, niente a nove anni. Sì, ma non è nell'età, naturalmente. Il problema di Simonetta non è che si accompagna un uomo più giovane, è che si accompagna un uomo che è debolissimo, ancor più debole di lei. Monica, dal canto suo, ha apparentemente una storia risolta, tranquilla, conforme, ma assolutamente non soddisfacente. Perché? Perché ad un certo punto si renderà conto che è assolutamente povero. Tutta questa gabbia dorata è ottone, capito? È una lega meno preziosa e così come i suoi legami sono meno preziosi di quella che lei immaginava all'inizio. E quando sente questa aridità e questa povertà comincia ad allontanarsi. È inevitabile che se ti allontani da qualcosa ti stai contemporaneamente avvicinando a qualcos'altro. E questo qualcos'altro... non te lo posso dire. Vabbè, è un qualcos'altro diciamo che potrebbe essere molto giovane, come nel caso del personaggio di Simonetta. E voilà. Adesso usciamo da Simonetta e Monica e rientriamo dentro Claudia e Isabella. Perché ho pensato a quanto eravate belle e a quanto eravate... tutt'ora lo siete, però che... Ecco, mi stavo proprio per criticare quelle ravate, insupportabili le ravate. Però oggi mi ha fatto specie da vecchio critico vedere, diciamo, le voi di qualche anno fa vicino a voi adesso. Perché, vabbè, questa signora con Selvaggia, Claudia, ci ha praticamente attraviato un'intera generazione. E il gioco con la mela sulla spiaggia e vabbè, quando placcavano Selvaggia, il sapore di me. Tu, nell'amica del cuore, sei stata molto baby. Molto baby, cara Claudia. Che sensazione avete nei confronti di Benedetta e Alice, raccontando anche quello che è successo a voi, con il vostro corpo, in questo mestiere, con lo sguardo di... Una domanda, perché io, di fatto, avendo recitato comunque con Alice, così, appunto, giovanissima, ci ho pensato, quando ero sul set, ho pensato a me, giovanissima, appunto, a 17 anni, nel primo film, appunto, Sapore di Mare, mi trovo davanti a Virnalisi. Comunque è stato un bel impatto. Cioè, Virnalisi, insomma, era proprio una signora del cinema, però è stata molto, molto accogliente. Io ero totalmente, ero molto giovane, ma anche molto inesperta. Alice, molto giovane, ma per niente inesperta. Eh sì, eh sì. Per niente inesperta. Beh, io comunque non ho nessun pregiudizio, sono stata da quella parte. Io se ripenso a com'ero e vedo loro, non sono passati vent'anni, sono passati duecento anni. Mi sento proprio completamente diversa da ciò che sono loro adesso. Vivevo nella bambaggia, vivevo in una specie di torpore caldo e accogliente, ma non ero per niente scaltra. Ero anche molto fragile e inquieta. Non voglio dire che, non penso che loro siano risolte e meno inquiete, però c'è una consapevolezza e un controllo meraviglioso. Beh, paradossalmente io ho imparato qualcosa da loro. Sono d'accordo. Grazie signore, grazie mille.